bene iniziamo adesso la registrazione di come elaborare queste tre fotografie fatte da Marco per prima cosa mi apro la cartella dove ho salvato le fotografie e la lascio aperta da una parte e sul disco di ma nuova cartella Marco e queste sono le tre fotografie delle galassie che abbiamo altre due immagini che ho calcolato io a partire da questa e quella interessante è questa annotata che adesso guardiamo un attimo questa è l'immagine annotata la ingrandiamo al cento per cento e vediamo alcune alcune cose in particolare queste questa che vediamo questa questi cerchi concentrici intorno al centro e la rotazione di campo dovuta all'inseguimento alta azimutale queste questi disegnini bianchi questi piccoli qua sono dei pixel caldi che sommati nella posa da 15 minuti danno la traccia qui ne vediamo un altro in basso eccolo qua vedete e questo è sempre orientato nella rotazione di campo qui ce n'è un altro mi pare qua sopra eccolo anche questo è orientato nella rotazione di campo questo è orientato la rotazione di campo sul bordo la rotazione più lunga verso il centro la rotazione più breve il problema è che ci lascia questi segni sporchi per eliminarli bisogna fare il dark frame che poi vediamo dopo come fare qua sopra ce n'erano altri qua su in alto eccolo qui ce n'è un altro qui vediamo in particolare gli errori di inseguimento della montatura che ha un modo armonico e quindi sale e scende quindi accelera e rallenta accelera e rallenta però questo è normale diciamo questa è l'immagine già annotata quindi vediamo ci sono numerose galassie molte prese questa è la ngc 3628 a 2745 e a questo è il centro dell'immagine con m66 e m65 l'immagine non è elaborata è un grezzo diciamo che per essere stata fatta da roma è buona quindi il fondo cielo è vero che è così chiaro ma non è drammatico quindi diciamo è una buona immagine da cui partire per fare questa elaborazione quindi questa è la cosa l'altra era la vignettatura quindi è la stessa immagine in cui è stato esaltato la differenza tra il chiaro e l'oscuro dove si vede che sul bordo esterno non c'è segnale o ce n'è molto poco questo significa che la l'imboccatura del telescopio con l'attacco da 31,8 pollici millimetri con cui è stato utilizzato crea questa rignettatura cioè oscura il bordo esterno dell'immagine ed è un peccato perché qui c'erano delle informazioni che abbiamo perso perché qui c'è il nero totale va bene anche qui vediamo i segni lasciati dai pixel caldi che sono questi questi qua su sono pochi sono 4, 5, 6 quindi niente di che va bene quindi qui abbiamo le nostre tre immagini e qui abbiamo maximdl che adesso apriamo eccoci qua noi abbiamo il pannello vuoto quindi questa sarebbe la scrivania chiamiamola così di maximdl e adesso iniziamo il processo allora per prima cosa andiamo a vedere le immagini che abbiamo realizzato anzi che ha realizzato Marco come sono senza elaborarle per fare questo faremo file open oppure dal meno file open e andiamo a cercare la cartella dove sono salvate le immagini che non è questa noi ce l'avevamo salvate qua dentro nella cartella che abbiamo lasciato aperta e per ottenere questa cartella posso fare semplicemente così seleziono la barra sopra e copio questo indirizzo ritorno sul maximdl qui incollo lo stesso indirizzo e premo la freccia e mi apre la mia cartella a questo punto io seleziono tre file con il tasto shift e qui apro e quindi qua sopra avrò tre linguette diciamo così con il primo il secondo e il terzo file con la rotella del mouse girando la rotella posso diminuire l'ingrandimento lo vediamo sopra che diminuisce da tanto a poco posso girare l'accento e così possiamo vedere come è fatta l'immagine tenendo premuto il tasto control e tenendo premuto il mouse posso muovere l'immagine a mio piacere senza dover usare le barre laterali che sono comode ma non sempre lo so tanto quindi con il tasto control muovo l'immagine sulla destra troviamo questa finestra che ci consente di fare lo screen stretch di questa immagine questa operazione che facciamo qua non è distruttiva ma è semplicemente una visualizzazione che noi abbiamo sullo schermo quindi non cambia nulla dell'immagine qui vediamo sempre i pixel card questa è la prima immagine che vediamo qua questa è la seconda la sposto sempre con il tasto control premuto eccola qua e questa è la terza immagine la sposto sempre con il tasto premuto qua noto una cosa per esempio che nella prima immagine e nella seconda immagine ho un certo tipo di esposizione nella terza immagine è come se fossero bruciate ma per capire cosa è successo ritorno sulla prima posso utilizzare questo pulsantino qua della manina che tiene un foglio di carta che ci mostrerà il fix header il file, questo è un file fix vedete, questa è l'estensione la header del file è un testo che è scritto dentro l'immagine che non viene visualizzato normalmente che però possiamo andare a leggere e vedere i dati della ripresa che sono questi qui vediamo alcuni dati che riguardano la telecamera l'ascensione retta a delineazione le coordinate dell'oggetto le date, il filtro utilizzato il titolo dell'immagine quindi M65, M66, NGC3628 e il black level le esposizioni il come è orientato il telescopio l'altezza e l'azimuth il guadagno impostato e altre informazioni questo è il tempo di esposizione il tipo di camera utilizzato la temperatura della camera meno 16,8 anche eccessiva secondo me poteva fermarsi a meno 10 questo è il telescopio usato questa è la camera eccetera quindi l'importante noi vediamo che è stato utilizzato il filtro HCS il guadagno è 250 600 secondi e la posa sì, di 600 secondi e le sub-exposition 3 se andiamo sulla terza invece riprendiamo le stesse tipo di informazioni vediamo che il filtro HCS la sub-exp è sempre 3 il black level è il 13 non mi ricordo come era prima e il guadagno è 250 qui il guadagno è 250 sub-exp 13 meno 16,8 la temperatura è meno 16,8 non capisco perché non lo so comunque queste sono le tre immagini che non utilizzeremo adesso quindi adesso le chiudiamo tutte e tre e basta vediamo che qua è come se fosse aumentata dall'esposizione o non ci fosse più il filtro non lo so perché va bene quindi chiudo le immagini faccio file close all quindi chiudi tutto e ritorniamo nella condizione iniziale a questo punto iniziamo il processo vero e proprio di somma delle tre immagini quindi andiamo su process stack significa impila e qui ho un pulsante che mi consente di fare add files oppure posso caricare altri ricordi quindi andiamo direttamente in add files ho già aperto prima i tre file quindi mi ritrovo la cartella giusta aperta altrimenti dovrei fare come avevo fatto prima e clicco sul primo file e vado sull'ultimo che sono tre con il tasto shift e premo apri i file non vengono visualizzati sono caricati qua dentro 1, 2, 3 perfetto a questo punto noi abbiamo dobbiamo avere impostate queste pagine in questo modo nessuna casella spuntata e qui classify by object quality nessuna casella spuntata align autostar matching non guardiamo questa finestra guardiamo solamente qua autostar matching quindi abbiamo la possibilità di fare altri tipi di allineamento nessuno quelli sia dove non sono autostar matching nessuno manuale una stella manuale due stelle una stella due stelle si utilizzano quando si vuole riprendere per esempio una cometa e quindi ci si focalizza sul nucleo e allora a mano si scelgono le posizioni di due stelle per fare allineamento questo lo vedremo però con una cometa per noi interessa solamente che sia selezionato autostar matching non tocchiamo niente tutto questo color non tocchiamo niente combine qui abbiamo la possibilità di fare diversi tipi di somma diciamo così una è una somma vera e propria è la media la mediana sigma clip e queste altre non le consideriamo in questo momento allora la somma si utilizza quando le immagini sono poche sono due o tre perché prende tutti i pixel da ogni immagine e li somma insieme quando le immagini sono parecchie almeno tre quattro cinque allora si si utilizza la funzione median che fa non la media ma la mediana delle tre immagini diciamo prendendo la parte migliore del segnale da ogni immagine e sommandola questo dà un risultato superiore rispetto alla somma in questo caso noi faremo somma e basta e a questo punto prima il tasto go e aspettiamo lui sta elaborando la prima immagine questa è la seconda e questa è la terza abbiamo finito quindi chiudo per garantirmi il lavoro successivo mi salvo questo passaggio intermedio quindi premo file save as salva come e lui mi proporrà sempre come formato il file fit mi propone 16 bit e va bene mi ripropone la cartella dove avevamo caricato i file e seleziono auto stretch questo è lo stretch diciamo dell'immagine io seleziono auto stretch senza preoccuparmi di cosa fa quindi m65 il nome l'ha preso dalla cartella dal nome del file in cui è scritto dentro il file fit l'avevamo visto nella header del file quindi lo prendi in automatico questo lo propone in automatico propone altri formati ma noi lasciamo in fizza normale e lo salviamo a 16 bit così come era in originale non compresso premiamo lasciamo la spunta su auto stretch se non c'è ce la mettiamo e salviamo e abbiamo finito andiamo a vedere adesso dentro la cartella e troviamo il file fit che è la somma di questi tre quindi se adesso volessimo interrompere il lavoro e riprenderlo domani noi non abbiamo bisogno di rielaborare i tre file ma partiremo direttamente da questo e questo è il nostro file adesso mi sposto con i cursori destra e sinistra e queste sono le immagini sommate delle tre la prima cosa che notiamo è che il fondo cielo si è scurito moltissimo vedete molti dei pixel caldi sono spariti qualche traccia è rimasta non la vediamo e qui vediamo la vignettatura e l'effetto sommato della rotazione di campo che è questo triangolo nero adesso andiamo dalla parte opposta andiamo quassù quindi mi sposto a sinistra il triangolo qui è la base del triangolo in cui il triangolo cresce se andiamo in alto vediamo il triangolo al contrario quindi qui è alto e qui è basso questa è proprio la rotazione di campo che fa questo lavoro quindi gira così e quindi qua ci porta giù l'immagine adesso con il control muovo direttamente l'immagine e qui abbiamo le nostre galassie va bene qui abbiamo lo stretch che abbiamo detto non è distruttivo io posso ingrandire questa finestra con il più quindi posso chiaramente utilizzare questi cursori però questo cursore diciamo oscurisce o schiarisce questo oscurisce questo schiarisce l'immagine però tutta l'immagine quindi il bello e il brutto quindi ci schiarisce il fondo cielo e ritornano i pixel calmi ecco ritornano i rumori di fondo e quindi questa cosa diciamo normalmente non ci dà vantaggio adesso lo utilizzeremo dopo ma in questo momento non lo ascoltiamo possiamo dire che già qui ci sono dei dettagli che possiamo dire di fuori quindi adesso ritorniamo a come era prima a questo punto facciamo la prima elaborazione che è questo filter digital development lascio filter su non background su auto mid level su auto non tocco niente e premo ok quindi vediamo già che l'immagine è aumentato il contrasto e l'immagine però è molto luminosa quindi è troppo luminosa dobbiamo abbassare adesso questa luminosità quindi qui porto verso destra qui diciamo un po' verso l'interno il destro non lo tocco il verde non alzo la luminosità perché andrei a bruciare immediatamente l'immagine che è già stata esaltata dal digital development quindi qua devo scegliere solamente un livello di chiarezza di scurezza diciamo così posso esagerare posso esagerare quindi devo trovare una via di mezzo che è a partire dalla base della curva verso destra quindi almeno diciamo una cosa così questo poi lo toglieremo con l'elaborazione successiva qui andiamo a controllare l'immagine in alto queste sono altre galassie qui abbiamo le nostre galassie qui diciamo che l'immagine va bene quindi questo abbiamo finito quindi la prima parte è finita e quindi faccio salva 6 vessa non più fit ma sceglierò png guarderò che sia scritto 16 bit tolgo l'auto stretch e premo manual stretch devo controllare alcuni valori che siano linea rolling screen stretch 16 bit non 8 bit 16 bit ok premo salva me lo salverà nella stessa cartella con il nome che era del file fit che era m66 m65 ngc 3628 fit qui diventa png sa e qui con maximdl abbiamo finito controlliamo l'immagine appena realizzata che è questa possiamo vedere come era l'immagine secca di una delle tre non della somma delle tre qui vediamo già quanto è migliorata l'immagine però chiaramente andando a elaborare con lo stretch diciamo digitale andiamo a esaltare delle parti di fondo cielo che non ci interessa però questo è così già l'immagine è buona e questa per ora ci accontentiamo e qui finiamo la prima parte dell'elaborazione con maximdl e passiamo adesso successivamente alla parte con photoshop musica Grazie.